a dratatoglia ma scherzi straordinario guarda credimi mai non ci potevo credere ma sei sicuro ancora dai dimmelo dimmelo dai 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 dammi un pizzicotto dimmi che è vero certo che sono contento no no me l'aspettavo un grande regalo quello che mi fai certo certo ma scherzi ma vuoi che non ti faccio trovare la piedina con lo scoquerone altro che te lo faccio trovare la piedina con lo scoquerone ti faccio trovare anche la grigliata di carne da mia retta sì 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 allora ti dico subito hanno già accettato allora i new trolls the narrow che è stato il primo poi ci sono i poo e dulcis in fundo proprio ci sarà l'orchestra genio e pierrot come non li conosci allora guarda l'occasione giusta sono i più grandi i più grandi dell'orchestra romagnola esistente al mondo credimi sì però adesso renato ti devo salutare ciao renato dai ci sentiamo presto certo 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 sarò sempre il tuo sorcino il tuo gustino il bagnino il sorcino vai tranquillo ciao 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 bello ciao corro di roma ciao 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 salve a tutti salve a tutti dal vostro fronten straordinario oggi è il 15 di agosto ed è il mio compleanno scusate un attimo avviso avviso a tutti i bagnini oggi è il mio compleanno grazie 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 di cuore volevo dirvi che già da oggi dalle 14 30 è nella piscina ci sarà una fiumana di gente tutta divertita tutto colorata perché faremo il gas a me alle 14 e 30 e vorrei che ci foste anche voi venite mi fa piacere però adesso vi devo lasciare per i prossimi 5 10 minuti che vado in onda d'accordo sì sì ciao 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 sono giunte numerose mail numerosissime mail alla nostra al nostro sito internet e tra queste mail ne abbiamo scelta una in particolare è la mail del signor mario donato che ci scrive da santo domingo caro gustino ti scrivo da un internet point e sono assieme a tutta la mia famiglia rinchiuso qui perché da sette giorni fuori siamo bersagliati da una pioggia battente con raffiche di grandine ogni tanto mio figlio luigino di sette anni mi dice ma perché babbo non ci hai portato all'acqua fan e mia moglie è luigino perché ha voluto scegliere il tuo babbo deve andare a fare le vacanze vabbè lasciamo stare lasciamo stare io mi fermo qua sono veramente dispiaciuto dispiaciuto tantissimo per l'esperienza che sta passando questa famiglia la famiglia donato però io ve l'avevo detto eravate stati avvisati no che in quelle zone soprattutto santo domingo sarebbe stato dal punto di vista del meteo una cosa difficilissima e voi l'avete fatto lo stesso però io oggi vi voglio offrire veramente un'occasione un'opportunità di riscattarvi voglio offrire questa possibilità perché in questa settimana che va dal 15 al 21 di agosto voi potrete venire qua nella zona bagnata dal mare adriatico si chiama zona della romagna e dove lì potete trovare un sole raggiante radioso e dovete solo venire voi qui in questa zona soprattutto a riccione in particolare all'acqua nella piscina onde ora però andiamo a vedere che cosa ci riserva veramente dal punto di vista degli eventi questa settimana quali sono gli spettacoli che ci saranno partiamo subito con le sagre le feste perché da giovedì 18 a domenica 21 a mondaino nel centro storico c'è il palio del daino una revocazione storica con tornei spettacoli trampolieri facchieri l'ingresso a pagamento discoteche partiamo con la villa delle rose perché il 19 di agosto ci sarà di gelli holly con stefano gambarelli la voice tania monis e sempre alla villa delle rose sabato 20 agosto ci sarà il dj mappa con mauro ferruccio e la vostra voice tania monis all'acqua fan e qui giochiamo in casa e ci siamo domenica 21 agosto m2 o e spuma party con sti cannone che ti sputano addosso tutta sta schiuma con la gente dentro la piscina onde che poga meravigliosa qualcosa da non perdere metteranno sui dischi gizi d'agostino e provenzano ciao gigi alcuni giorni fa mi trovavo sul lungomare di riccione nella zona del marano prossimità del mojito beach ero in compagnia di tutta la mia famiglia e c'era anche il mio cane jack stavamo guardando l'orizzonte c'era un tramonto straordinario mostafiato sulla riccione ci sono dei tramonti così sulla riccione e mentre eravamo lì che guardavamo spuntano dal mare tre teste io lì per lì non ho capito chi fossero però guardo meglio chi erano carmen russo con enzo paolo turchi in compagnia di alberto camerini che con loro c'è un amicizia fin dai tempi di dance bambolina automatic clouds e allora carmen mi dice sai eravamo sul pedalò e stavamo ascoltando proprio la tua zogas a me e quando a un certo punto a enzo paolo turco gli è venuta in mente l'idea di fare un nuovo programma tipo tipo cantonissima è però ai giorni d'oggi e io dovrei fare praticamente i balletti lui fare belle coreografie e pensava che il tuo zogas a me gustino può essere veramente la sigla d'apertura di questo nuovo programma io sono onorato carmen russo però non so se funziona per la televisione e alberto camerini dai che magari io rivisito il pezzo in chiave elettronica magari possiamo fare tipo apri l'ombrellone metti giù lo sdraio dico alberto camerini io sono onorato però non so se funziona facciamo una cosa venite il 15 di agosto che è il mio compleanno lì faremo il zogas a me con centinaia e centinaia di persone adesso però io questo zogas a me lo voglio riascoltare dai forza ragazzi entrate dentro dai forza siete meravigliosi eh mi raccomando dai forza dai dai energia ragazzi dai 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 dentro dentro devi stare nel pezzo dai sempre nel pezzo eh mi raccomando eh forza sempre sorridenti mi raccomando oh io posso sbagliare eh voi no eh mi raccomando dai sempre con il cuore sempre dentro dai andiamo ombrelone sdraio asciugamano crema solare camigate stristacool speed riull campanella onde piscina onde a proposito la piscina onde ha restituito questo oggetto vedete oppure potrebbe essere fatto anche così guardate eh chiunque ne fosse il proprietario è pregato di venire a recuperare qua all'acqua fan e alla sezione oggetti smarriti noi siamo aperti tutti i giorni dalle 10 della mattina alle 18 e 30 di sera eh potrebbe potrebbe appartenere anche a un facchiero portate il facchiero così lo riconosciamo dai adesso però vi devo salutare vado a suonare la campanella delle onde è già passata un'ora e a 40 continuate ragazzi siete una soddisfazione per l'anima e per il corpo dai continuate così veramente io sono sono veramente soddisfatto io vi aspetto eh con questo zogas a me questo è il zogas a me ricordatelo ricordatelo tutti zogas a me anche te zogas a me dai meraviglioso acqua fan ciao 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 ciao